Ecco qui la lunghissima fila per entrare a Radio Londra di Este, ciao a tutti da parte di Matteo Sandri prontissimo a raccontarvi in questa clip cosa succede questo sabato perché c'è un ospite molto importante che porta il nome di Francesca Cipriani, state con noi! Sempre da Radio Londra ho preso un DJ della console, Nick Armstrong, ciao carissimo come stai? Ciao ragazzi, ciao tutto bene? Allora dopo due anni, ormai due anni siamo tornati a fare insomma senza grosse problematiche quindi l'adrenalina è al massimo, ma io sono carichissimo anche perché c'è un sacco di musica nuova che non ho suonato e quindi questa sera la posso suonare e quindi siamo carichissimi Allora se vogliamo anche dire dove sarai nelle prossime date, dove ci potremo vedere e ascoltare soprattutto suonare la tua fantastica musica Allora beh, per il momento posso dire solo che sarò con i ragazzi di Radio Londra, fisso quest'estate, l'autunno e l'inverno prossimo quindi questo è quello che posso dire per ora, poi nel mentre magari succederà dell'altro però al momento io faccio parte della famiglia Radio Londra Allora avremo modo di vederti ancora in altre date seguito nei social che è importantissimo e grazie per essere stato con noi Grazie mille a voi ragazzi, avanti tutta, ciao! Grazie mille a voi!